Lei è Jennifer Roncato e io sono io E oggi andiamo a fare l'allenamento glue day della campionessa bikini Lorelicia Palos Lorelicia Palos, let's go! Possiamo dirlo che per loro siamo all'aperto, al freddo di marzo Non fa freddo Dio dio hai la freddo Partiamo con il workout di Patricia No, il riscaldamento è by Jennifer Roncato in realtà Sì, perché altrimenti qua ci ammazziamo Io sento già tutta la vita che mi si sgretola davanti Volevo dirti quanto sei alta Perché sei molto più bassa di quella che mi ha sentito No, facciamo nei commenti Quanto è alta Jennifer? Abbassati un attimo Quanto sei alta? Altissima Questa è una chicca Cioè non l'ho mai detto Sentiamo la prima chicca importante Allora, visto che è molto importante la connessione di mentemiscolo, no? Sì, è verissimo Invece di fare un sacco di esercizi, di scredamento eccetera Che va fatto? Trizzo sedere Ok Specialmente Però se strizzi il sedere Tu non riprendi il mio sedere Mi riprendi il mio sedere Assolutamente Non riprenderemo neanche per un frame il sedere di Jennifer in questo video Sia fia Ok Andiamo Primo esercizio di Patricia Leg curl Comunque dato che in questo workout ci spingerò come una fottuta auto di Formula 1 Pre workoutino della Zach Questo è il kick down Questo apple guava è il gusto migliore Vi lascio il link qui sotto in descrizione Codice leone 58 per risparmiare il 10% su tutti i vostri acquisti E let's go Cristian Non stiamo assolutamente riprendendo niente Ti giuro No no Aspetta Di questo vanno fatte 3 serie da 12 ripetizioni Ok ci mettiamo all'opera Vai Che abbia inizio il workout di Patricia Ok vai vai Sono rotto già eh Ma tu hai mai visto un coach allenarsi insieme a Oh ma Non l'hai ricercato Adesso buttiamo il 60 kg No 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 Non ho passato di 5 kg Va bene Già morendo comunque non faccio una cosa del genere da quando ero giovane Ok Cosa ti aspetta adesso di bello Ecco non lo so Abductor machine Poi devi sapere che io di natura ho un bel sedere di mio Dai Ti ho detto ho una bella genetica di Adesso è da un po' che non faccio squat Narcisista ragazzi No 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 Ho un sedere che Patricia spostati Passiamo al secondo esercizio Dai Lo facciamo un po' più inclinati così sentiamo meglio lavorare il sederino E poi c'è una cosa che lei usa che è piegare le come si chiama i piedi I piedi Guarda questo è un piede Tre serie da 20 Io lo sento altissimo non so se sia utile ma io lo sento Credete che non ho mai visto questa cosa E non giudicatevi Vai Uno Uno Ah 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 Sì Cosa facciamo adesso coci Adesso c'è lo squat mi fa Però lo squat con il macchinario Chi fa squat con il macchinario Patricia Ah guarda lì c'è No è inutilissima questa macchina Perché Non è vero No no però non è la macchina che stiamo cercando è vero Cristian non hai ritroso il sedere no 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 bene bravo bravo guarda che bella macchina c'è fuori c'è una bella auto fuori lei in realtà fa la leg press però al contrario tipo squat e fa arriva al cedimento quindi ogni otto ripetizioni no ogni otto ripetizioni abbassa i chili si abbassa di 5 chili però noi abbiamo questa quindi facciamo lo stesso 133 chili ah saltezzate adesso scelgo io i chili per te ma dove vuoi io mi basta si poi diventa 77 Hulk ma non riesco ma non mi inchia let's go coach non mi piace allenarmi con lui adesso devi dire qual è il muscolo più sexy di un uomo sai che c'era un audio su tiktok è vero secondo me schiena o petto schiena e petto anche secondo me anche il culo vuoi che provi il pacco pesi vai perché se se veramente il culo è uno dei muscoli più sexy adesso mostriamo a Jennifer quanto è sexy il mio sedere guarda che dopo abbiamo due che ti ammazzano si oh dio ehi sto manendo dai che dopo pazzesco 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 basta scorsi dammelo sto prima adesso che esercizi ci mancano il tratta e l'ultimo è bello l'ultimo è bello l'ultimo è bellissima sorpresa dammi un attimo quindi questo è lip thrust lip thrust macchinario macchinario però diciamolo che il coach è stato un po' egoista cosa dici? no patricia fa il macchinario non è vero patricia non fa il macchinario lei voleva provare questa roba strana e adesso faremo lip thrust macchinario esatto quante rap? tre serie dieci ripetizioni ok 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 ma quando siamo teni la mano e lui vai yes basta basta è tostissima questa roba eh ma infatti io cioè 20 chileghezzi ehi hai un gluteo che è il corpo del mio nessuno ha guardato il gluteo non l'abbiamo neanche mai inquadrato però con la corda nell'occhio ho visto che era un gluteo importante basta ok marca l'ultimo questa è tosta è bella kickback al multi power quindi farmi deridere da tutta la palestra perché sembrerò un cane a quattro dante ma hai capito com'è eh ma l'ho visto è quello in cui ti metti così e inizi a fare questa roba però con tutte e due le gambe basta io devo metterli così sembri uno scorpione uno quant'è? 20 20 20 bene ragazzi l'allenamento è finito è stato un piacere grazie mille di essere stata qua Jennifer vai vai guai a chi fa uno screen o qualcosa del genere no vaffanculo eh bello 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 cioè il corpo umano non è anatomicamente fatto per credi mi ho un'ernia al disco adesso ho il culo in fiamme e ho la reputazione distrutta tre cose che non vanno bene no aumentiamo pochino pochino con cazzo Jenny guarda che mi preme sulla vista devo andare a fare la pipì ultima serie di questo allenamento di Patricia vai vai Marco mi aveva chiesto di distruggerlo ti odio ti odio siamo stati bravissimi è stata una coach pazzesca ragazzi io ringrazio questa coach devastante e Patricia non ringrazio Patricia quanti social hai instagram twitter facebook netlog myspace hollyfans tutti i suoi social saranno qui sotto in descrizione grazie mille di questo workout pazzesco grazie a te spero di non rivederti mai più noi ci vediamo nel prossimo video ciao leone ciao 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 ciao